ciao a tutti lei è sincera che fosse interessato ad avere una risposta questa domanda seguo il video nel frattempo iscritto al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco e iscriviti al nuovo canale felicità benessere di post che descrizioni mescolate le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali la carta 1 la carta 2 la carta 3 e la carta 4 allora concentrati su questa lei della quale vuoi sapere se è sincera dopodiché scegli una carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 perché ha scelto la carta 1 no non è sincera tergiversa di fatto ti farà perdere tempo che ha scelto la carta 2 diciamo che non è un esempio di sincerità se vogliamo dire anche se ci può essere un inizio di relazione ma sarà lungo e difficoltoso chi ha scelto la carta 3 diciamo che si è sincera anche se non è ancora la forza di tenerla sotto controllo per cui ancora abbastanza come dire anarchica nelle sue reazioni chi ha scelto la carta 4 no è manipolativa non sincera nei tuoi confronti per questo video è tutto seguimi sulla pagina di instagram messo tra masco iscriviti al canale iscriviti al mio nuovo canale felicità benessere quindi posto il link descrizione ciao a tutti